Dalla Puglia alla Luna, turismo spaziale dall'Italia. Italia presto sarà base per il turismo spaziale. Se vuoi viaggiare nello spazio, adesso si parte dalla Puglia. Più di 650 persone hanno già prenotato. La base di lancio sarà a Grottaglie. Da città delle ceramiche a città spaziale. Italia, da sempre culla dell'arte dell'umanità, ora si accinge a diventare culla del futuro per il turismo. Infatti, dalla Puglia partiranno i viaggi spaziali, più precisamente dalla città delle ceramiche, cioè Grottaglie. L'azienda del noto imprenditore Richard Branson, infatti, ha siglato un accordo per iniziare a sviluppare il primo veicolo spaziale che farà voli turistici suborbitali, ma non solo, coinvolta nel progetto e anche la Blue Origin. Più di 600 persone hanno già prenotato il biglietto. Costo poco più di 250.000 dollari per una manciata di minuti nello spazio a 100 chilometri da terra. Non supereranno la linea di Kármán, cioè il confine tra l'atmosfera e lo spazio. Queste due ditte proporranno due esperienze nello spazio piuttosto diverse. Nel primo caso, i turisti saranno imbarcati su una navicella spaziale che verrà sganciata in volo e sperimenteranno l'assenza di gravità, godendosi un panorama mozzafiato. La seconda, invece, l'esperienza offerta dalla Blue Origin, sarà più tradizionale, sempre dall'aeroporto di Taranto Grottaglie, ma questa volta sorvoleranno la terra a bordo di una navicella a razzo, per poi ritornare dolcemente a terra con dei retrorazzi che l'atterraggio lo faranno sembrare come se fosse sopra un battuffolo. Guardate il video dei test realizzati dalla Blue Origin. Grottaglie, città delle ceramiche. Anche se tutti guardano al futuro, noi teniamo sempre un occhio al passato, se così lo possiamo chiamare, visto che ora, con questa novità, forse Grottaglie cambierà leggermente faccia. Oggi Grottaglie la vediamo e l'ammiriamo così. Il turismo spaziale dall'Italia ora diventa realtà. Non ci rimane che essere orgogliosi e magari sperare di vincere il superanalotto, così potremo prenotare anche noi il nostro viaggio nello spazio. Partenza, Puglia.